La Gazzetta del Mezzogiorno, in collaborazione con la Hazard Edizioni, presenta una collana di racconti a fumetti inediti. Storie e personaggi, luoghi e leggende di Puglia e Basilicata, raccontati da giovani autori con la versatilità e l'immediatezza del graphic novel. 12 volumi da collezione per vivere a fumetti l'immensa ricchezza della nostra terra. La prima uscita a soli 5 euro oltre al prezzo del quotidiano dall'8 aprile in edicola. Grazie a tutti.